una buona giornata e buon 29 aprile 2022 siamo già giunti a venerdì stiamo quasi per finire anche questa settimana e sia benedetto in nome di gesù anche oggi siamo pronti per ascoltare la sua meravigliosa parola e quindi io non voglio perdere l'altro tempo voglio ascoltare la voce di dio che oggi ci parlerà attraverso la scrittura attraverso lo spirito santo e quindi vogliamo prestare attenzione amen siete tutti d'accordo ma certo che sì allora vogliamo andare subito al versetto di oggi che dice così quei 18 sui quali cadde la torre in silo e li uccise pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di gerusalemme no vi dico ma se non vi ravvedete perirete tutti allo stesso modo questo testo lo puoi trovare nel vangelo di luca capitolo 13 i versetti 4 e 5 il titolo di questa meditazione biblica è questo avvertimenti la storia non racconta nulla di quella torre di gerusalemme vicino alle acque di silo e che crollando uccise 18 persone ma la bibbia riferisce quel tragico avvertimento per bocca di gesù e ne aggiunge anche un altro ancora più orribile luca 13 versi da 1 a 5 perché serva di avvertimento per tutti gli uomini dio si serve di tutto ciò che accade nel mondo per parlarci in modo solenne e come se ci dicesse rifletti quale sarebbe il tuo destino se oggi all'improvviso tu perdessi la vita nella bibbia la parola perire non significa semplicemente morire in qualunque modo ciò avvenga bensì rimanere eternamente lontani dalla presenza di dio matteo 22 verso 13 lo scopo di gesù era quindi di spingere i suoi discepoli i suoi ascoltatori a pentirsi a riconoscersi peccatori davanti a dio e a provare un profondo dispiacere per le proprie colpe ma gesù diceva anche che egli aveva sulla terra il potere di perdonare i peccati infatti era in cammino verso la croce sulla quale avrebbe subito da parte di dio il giudizio che i peccatori meritavano e per beneficiare di questo perdono essere ovviamente liberati e avere questo dono meraviglioso della vita eterna bisogna dunque credere al signore gesù in tal modo sia che moriamo sia che viviamo da lui rapiti in cielo con tutti i suoi riscattati mentre siamo ancora in vita vivremo eternamente in sua presenza non rimaniamo indifferenti accettiamo questo grandioso mezzo di salvezza offerto gratuitamente dal nostro padre celeste ravvedetevi dice gesù e credete al vangelo lo trovi questo sul vangelo di marco capitolo 1 verso 15 ravvedetevi quindi pentitevi dei vostri peccati e credete al vangelo non credete alla chiesa credete ad andrea credete a qualcun altro credete a lascia credete al vangelo quindi gesù sottolinea in un modo forte e perentorio che bisogna credere al vangelo hai una copia del vangelo in casa tua se ce l'hai inizia a sfogliarlo e ciò che leggi sappi che non è un libro normale è parola di dio e gesù ci sta dicendo credi al vangelo credi a ciò che è scritto perché per mezzo di esso tu potrai ricevere salvezza e per mezzo di esso tu potrai risuscitare spiritualmente e per mezzo di esso ricevere la vita eterna quindi vede gesù è molto chiaro nel parlare non sta lì a giocare con le parole non mette neanche in risalto questo quell'altra persona no 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 gesù va direttamente al punto credi al vangelo così evita anche discussione questa è la verità lì c'è la verità io c'ho la verità io proclamo la giustizia e tutte quelle cose che gli uomini ovviamente purtroppo a volte incappano nel percorso della loro vita invece gesù va direttamente al al centro credi al vangelo e quindi cosa vogliamo fare vogliamo credere vogliamo applicarlo alla nostra vita e vogliamo anche metterlo in pratica perché se lo mettiamo in pratica riceveremo una benedizione straordinaria da chi direttamente dal signore addio addio sia tutta la lode e la gloria dio ti benedica e una buona giornata ci vediamo domani pace a te